riuscivi a sentire la differenza due aspirato tre soffiato non tanto beh questo significa che il due aspirato stava suonando correttamente benvenuto bentornato armonica in pillole ogni volta un consiglio un argomento per imparare a suonare meglio l'armonica blues oggi come avrai capito parliamo di questo benedetto foro due aspirato che spesso con i principianti sono in questo modo cosa significa questo significa che non stiamo conformando correttamente la nostra cavità orale il foro due aspirato è uno dei fori più difficili da suonare all'inizio tanto che alcuni principianti vanno al negozio e gli dicono guarda che questa armonica è difettosa beh purtroppo non è l'armonica è soltanto che devi ancora imparare la giusta tecnica quali sono i consigli per ottenere un buon foro due aspirato intanto di non succhiare quindi non fare il vuoto ma di respirare qua in maniera leggera nella gola tenendola aperta all'inizio ti puoi aiutare aprendo il naso e innalando anche dal naso questo evita che si formi il vuoto poi ben presto dovrai imparare invece a tenere il naso chiuso e utilizzare solo la bocca ma sempre tenendo la gola larga e rilassata puoi fare una prova a suonare guardando il soffitto in modo che si stiri bene il collo probabilmente riuscirai a tenere un buon suono dal foro due aspirato perché è così importante suonare bene il foro due aspirato del resto se non dobbiamo fare il bending è la stessa nota del tre soffiato no tre soffiato due aspirato ma perché in alcuni contesti in alcuni passaggi ci verrà più comodo suonare il foro due aspirato invece del tre soffiato e anche perché dal punto di vista del tono il due aspirato ci dà la possibilità di manipolare maggiormente il suono visto che possiamo applicare il bending e ottenere per esempio il famoso effetto vibrato quindi ricapitolando la pillola di armonica di oggi per suonare un buon foro due aspirato tieni la gola rilassata la cavità aperta e stai leggero non succhiare ma inalare da qui fin quando riuscirai a far suonare il due aspirato in maniera molto simile al tre soffiato ok questa era la pillola di armonica di oggi il consiglio di oggi ti invito a praticare con la tua armonica e ci vediamo alla prossima ciao